Buonasera mister, bentrovato. Cosa ha pensato di nuovo rispetto alla gara dell'andata per questo ritorno e domani sera, al di là del risultato, lei sarà soddisfatto se... Qualcosa di nuovo, è chiaro che avendoci giocato anche due volte così vicino si va a lavorare ancora più in profondità su alcuni dettagli, su quello che è successo in campo senza andarle a vedere con altre squadre che diventa più facile trovare probabilmente delle cose da sistemare. Ci sono sempre cose da sistemare. Noi, come dicevo prima, siamo partiti da quest'anno, da quando è stata riformata un po' questa squadra con un'idea di calcio, per cui non è che una volta tutta avanti, una volta tutti dietro. Se c'è un dialogo ormai che dura da anni non è che ci si possa deformare totalmente. Bisogna trovare degli accorgimenti, delle cose che possono succedere dentro la partita tipo queste ripartenze dove poi il Milan ha delle qualità differenti a tante altre squadre perché le ha un po' tutte, perché il Milan ha a scocca, a motore, a tecnica, ha questa facilità di se gli dai campo, di avvicinarsi con il portiere perché è abituato a fare anche il regista difensivo perché come sono un po' in difficoltà ripartano sempre dai magnan. Per cui la cura dei dettagli, l'attenzione è quella che riuscirà poi a metterci in condizione di essere più bravi di loro. Dicevo prima alle televisioni, qualsiasi cosa che riguarda il successo trovi sempre due cartelli, entrata e uscita. Per cui di uscire non siamo contenti. Sarò felice soltanto se si riesce a passare il turno perché sennò poi qualsiasi consolazione di prestazione sarà una consolazione magra. Noi dobbiamo fare come abbiamo fatto nella partita d'andata. Siamo usciti con qualche svantaggio ma non abbiamo avuto rimorsi per quello che è successo. Poi è chiaro che se si va a vedere negli episodi qui dovevi far golli, dovevi fare il contrasto in più perché sono usciti troppo fatti, facilmente, però poi in generale la prestazione che mi aspetto è quella della partita d'andata. Condizione innaturale per voi. Siete in testa dalla prima giornata più o meno in campionato, siete stati in testa nel girone, siete partiti davanti con l'Eintrack francoforte. Stavolta vi trovate costretti a inseguire. Cambia qualcosa? O Spalletti chiederà al Napoli di essere sempre se stesso? Io sono convinto che si riesce a creare situazioni importanti soltanto se si fa una prestazione di alto livello, se si mette in campo quella qualità, se siamo intensi, se siamo bravi a trovare quegli spazi e poi ad uscirne il più veloce possibile. Siamo bravi a fare questo possesso palla che ci mette nelle possibilità, nelle condizioni di trovare un po' quelle che sono le nostre qualità, perché noi siamo una squadra che dobbiamo giocare al calcio, accetto un paio di calciatori è difficile che riescano poi a tirar fuori il colpo da soli se non viene da un comportamento di squadra. Per cui io penso che sarà così anche domani sera, perché la squadra si merita di fare una bella prestazione domani. Gazzetta dello Sport e si prepara il Corriere della Sera. Buonasera, da inizio anno lei batte su uno dei tassi su cui batte i titolari da 60 minuti e quelli da 30 minuti. Domani forse ci vorranno titolari da 60 e 60, cioè se psicologicamente lei ha preparato anche la squadra, perché col fatto che non c'è più il gol in trasferta, la possibilità di andare supplementare aumenta e se, non dico fisicamente, se c'è stata una preparazione concettuale sul discorso dei rigori, perché poi è chiaro che provarli a freddo conta relativamente rispetto alle situazioni in cui uno si ritroverebbe. Allora sì, abbiamo cercato di prepararci a tutto, perché si fa un po' così. Staremo attenti perché a questo punto del campionato poi qualche defezione come ce l'abbiamo purtroppo, un po' perché ci sono successi, un po' perché ce l'hanno imposte, però qualche defezione ce l'abbiamo. Bisogna essere bravi a pensarle un po' tutte, compreso la possibilità di andare a calci di rigore, che naturalmente sono stati provati, ma io penso che li abbiano provati, tutte le squadre che partecipano a questo turno. Qual è il concetto che ti va a rispetto del momento? Non è la lista ora? Ma lì c'è da vedere, poi si fa un gruppo di calciatori e si fa una lista in base a quella che è il numero della battuta che bisogna eseguire, perché poi, secondo noi quelli più bravi debbono battere prima, non debbono aspettare di essere all'ultimo, perché poi l'ultimo a volte può darsi che non ti venga concesso di batterlo. Eccomi mister, buonasera. Questa sfida di Champions si è dibattuto molto sull'esperienza, sul concetto di esperienza. Se secondo lei c'è ancora questo gap rispetto al Milan, almeno nel contesto attuale, nella situazione attuale, e quindi quanto conta l'esperienza, se la sua squadra, secondo lei, ha acquisito una giusta esperienza. E poi prima, Gesù ha parlato di, dice, noi abbiamo risposto sul campo, dovremmo continuare a farlo, anche con un pizzico di furbizia in più. Che si intende per furbizia? Se immagino ne abbiate parlato. Grazie. Noi l'esperienza ce la siamo fatta, ce la siamo fatta perché, perché ormai abbiamo giocato tante partite in Champions, nelle qualificazioni abbiamo giocato su dei campi dove abbiamo dimostrato maturità, abbiamo dimostrato carattere, abbiamo dimostrato personalità, per cui non vedo ora, perché dovrebbe essere diversamente, probabilmente quando si parla di esperienza si parla anche a livello di club, di importanza, e lì qualcosa abbiamo pagato. Probabilmente lì qualcosa abbiamo pagato. Però, poi, c'è sempre la possibilità di ribaltare qualsiasi risultato, e mi aspetto che la squadra sappia fare tutte quelle cose che necessitano dentro la partita. Quando Juan Jesus parla di furbizia è di fare probabilmente contrasto dove Diaz è uscito da quei due uomini quando abbiamo subito la ripartenza, quando poi si è preso gol. Non penso si riferisca ad altre cose che sono avvenute dentro il campo, perché noi dobbiamo pensare a giocare la partita in maniera normale, mettendo tutto quello che abbiamo dentro, perché questo livello di calcio, questo livello di competizione è un premio per i calciatori, per quello che è stato il lavoro prodotto fino a questo momento, è un premio per la città, per tutto l'amore e l'affetto che ha per questo sport e per questi calciatori e noi dobbiamo essere nelle condizioni di dare tutto di noi stessi a questa partita. Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Abbiamo visto nella partita andata due momenti di un dominio molto chiaro e stesso del suo Napoli e abbiamo visto una perdita di quel dominio in qualche momento. Secondo lei in questa partita giocata in casa con questo ambiente potrebbero venire naturali quelli aggiustamenti per poter mantenere quel Napoli che abbiamo visto ad esempio molto chiaramente nei primi 20 minuti della partita? La ricerca che dobbiamo tentare di fare, noi abbiamo quello nel DNA, è stato scelto dopo la preparazione in base a quella che era la composizione degli elementi di questa rosa, di provare a giocare a pallone, di provare a prenderli alti, di provare ad andare a pressare, perché poi secondo me si trovano dei vantaggi. Poi è chiaro che sei costretto a lasciare il campo alle spalle e in questo attacco e in questo salgo con la linea c'è quella via di mezzo che ogni tanto bisogna concedere un po' di campo agli avversari, ogni tanto bisogna abbassarsi, scegliere quali sono i momenti, non arrivare in ritardo a fare queste pressioni ultraoffensive, rimanere sempre squadra corta, avere la disponibilità a rientrare sotto la palla da parte di tutti i componenti della rosa, fare densità intorno alla palla, per cui è lo svolgimento che determinerà quanto siamo maturi per andare a confrontarsi con una squadra come il Milan, perché come si diceva prima, il Milan ha tutte le qualità, alla pallata, alla velocità per ribaltare qualsiasi azione, alla tecnica per uscire dallo stretto, alla costruzione per metterti laggiù a cuccia, a dover subire quello che loro sanno fare, per cui bisogna sapere far tutto, insomma questa partita qui non è una sola cosa che ti permetterà di uscirne vincente. Il suo Napoli è una squadra molto riconoscibile, allora rispetto al suo Napoli quanto cambierà senza Anghissa e senza Kim, e invece relativamente alla sfida col Milan, quanto cambierà, visto che col Milan non ha mai giocato Victor Rosimane, quanto cambierà il suo Napoli con Victor Rosimane in campo? Ma noi abbiamo abbiamo una rosa che ci ha permesso di arrivare fino a questo punto, non sono stati soltanto 11 calciatori, non puoi avere un margine così evidente in campionato, se non sono di livello anche quelli che hanno giocato di meno, perché probabilmente per raggiungere un calcio così ti ci vogliono anche che gli allenamenti fatti bene, non solo le partite, perché le partite si giocano una volta ogni tanto e rischi di dimenticarti se poi non ti eserciti nella stessa maniera. Per essere pignolo posso aggiungere anche che in quei 15 giorni prima della sfida col Milan, che avevamo soltanto 5 calciatori, perdono un po' qualcosa dell'abitudine che hanno a fare poi le stesse cose che bisogna fare, perché perché un conto è parlare di calcio e dire giochiamo verticale e rientriamo tutti nella nostra metà campo, aspettiamo al limite dell'area e poi si gioca verticale, perché più spesso si dice così. E un conto è cominciare ad andare a mordere fin da quando muovono palla, ci vuole ci vuole la squadra che copre determinati spazi, che è tutta disponibile a partecipare, perché poi se lasci dei vuoti gli altri calciatori ti ci vanno a giocare dentro e poi per loro diventa più facile andarti dietro la linea difensiva, insomma sono due modi di allenarsi diversi, di fare differenti, ecco. Poi mi ha chiesto quanto Gesù è un calciatore che ha già giocato questa competizione, come diceva lui è pronto per giocarla, ce l'ha fatto vedere, poi Don Belè probabilmente perché non ha quel minutaggio che se fosse Don Belè Elmas è un giocatore che ha probabilmente più caratteristiche offensive e non è uno che lavora diciamo in in tutto quello che bisogna fare da centrocampista strutturato per dare equilibrio alla squadra, però lo fa con la disponibilità che l'ha sempre fatto probabilmente da queste defezioni poi se ne guadagna di più con Osimè dentro nel confronto perché poi Osimè qualche volta dovrà essere lasciato uomo contro uomo come si fa a noi perché poi anche il Mila ti viene a mordere, ti viene a pressare, il Mila è una società, è una squadra che gioca un calcio totale proprio moderno da tutti i punti di vista, Pioli è un grandissimo allenatore perché ce l'ha fatto vedere l'anno scorso hanno vinto meritatamente il campionato quest'anno sono a questo livello di Champions e possono cambiare undici calciatori come hanno fatto nell'ultima partita dieci calciatori e fare ugualmente una grande prestazione per cui vengono a fare la partita e un po' di pensiero a lasciare Osimè laggiù probabilmente ce l'hanno anche loro come ce l'abbiamo noi ecco come ce l'abbiamo di cv2 norway first of all thanks for your time Leo Ostergaard what is your impression of him so far the national coach of norway Stole Solbak and say he might need to change club to get more playing time and your reaction to that thank you non lo so probabilmente quella è la scorciatoia per tutto però Leo è un professionista eccezionale è uno che ha delle qualità ben precise è uno fortissimo fisicamente poche volte ho visto dei calciatori forti di testa così per quanto riguarda il nostro calcio o perlomeno quello che abbiamo imbastito in questa stagione qui deve prendere ancora un po' di confidenza con quello che è la costruzione del gioco e giocare in campo aperto perché perché poi quando si parte per difendere dalla linea di metà campo bisogna essere un po' abituati a vengo in avanti vado indietro e via dicendo per cui ha trovato due calciatori fortissimi davanti a lui come Kim e come Rachmani per cui gli ho concesso poco ma lui meriterebbe meriterebbe tanto e questo un po' mi dispiace come mi dispiace poi di quegli altri che si allenano sempre bene non riesco a concedergli spazio per far vedere le qualità che hanno ma sono convinto che questa stagione a lui servirà moltissimo per il suo futuro e poi e poi a tutte le qualità dopo aver fatto un po' d'esperienza per entrare dentro e essere un titolare come vorrebbe il suo allenatore della nazionale mandandoli in un'altra squadra Buonasera Spalletti Fabio Conte agenziaria ma per qualità di gioco idee di gioco la cavalcata in campionato i quarti di Champions questo Napoli non è già un po' nella storia non lo so non lo so bisogna bisogna vedere probabilmente come come dicevo prima domani sera è una partita è una partita la Champions League di di calciatori che sono delle stelle perché giochiamo per per quel livello lì e esserci dentro è già qualcosa è già qualcosa di importante ecco noi vogliamo vogliamo andare avanti dentro questa competizione vogliamo vincere per cui giocheremo la partita per vincerla senza fare troppi calcoli mantenendo naturalmente un equilibrio poi si starà a vedere in fondo dove siamo arrivati e quello che abbiamo fatto allora faremo delle valutazioni ma stare qui a difendere quello che è successo fino ad ora significa non credere di poter fare di più per cui noi crediamo di poter fare di poter fare di più non non c'è nessun rischio dentro la partita di domani sera nessunissimo rischio rischiamo l'abbiamo già detto rischiamo la felicità infinita perché perché non ci siamo abbastati a questo livello e se si vince si va ancora più in là grazie buonasera mister un inedito c'è in Napoli-Milan Leao contro Osimène ci descrive questo duello lei ha parlato di stelle ho preso queste due ma diventa facile è visibile se sono due calciatori per certi per certi versi simili perché hanno questa grandissima velocità in campo aperto hanno questa facilità di essere di risolvere da soli le situazioni che poi capitano dentro la partita sono tutte e due due scocche imponenti perché hanno hanno fisico tutte e due probabilmente tutte e due da un punto di vista tecnico nello stretto nel dialogare con i compagni hanno ancora delle cose da migliorare per cui sarebbe bello averli tutte e due a disposizione grazie grazie a voi grazie 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 grazie